buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite video mappe creative per farvi livellare velocemente questo pass battaglia che è giunto alla sua seconda settimana di vita ma prima di cominciare con il video oggi vi ricordo il contest di questo video che è questa skin da 800 v-back difensore scarlato con due stili differenti che verrà messo in paglio se raggiungiamo i 50 like a questo video e i 1000 iscritti sul canale quindi mi raccomando scatenatevi nei commenti con i vostri nomi account che se raggiungiamo i target uno di voi riceverà questa skin molto molto carina ma ora bando alle ciance e partiamo con il video mappa creativa di oggi il codice della mappa è questo che vedete in sovraimpressione 80 64 71 52 29 34 startate la mappa in modalità partita privata e cominciamo con il video di oggi dunque amici una volta startata la mappa dovete andare uscire dal cavo e attivare il tasto che si trova al centro della mappa che è qui il tasto verde che troviamo esattamente qui lo attiviamo e poi qui dove c'è la cabina dobbiamo fare una base e attendere i 10 minuti perché si attiverà il pulsante che servirà per iniziare a guadagnare i punti esperienza quindi vedete in alto a destra è il counter play 10 minuti dobbiamo arrivare a 10 su 10 quindi dovremmo esserci dovrebbe mancare poco ancora qualche secondo vedete quando esce il banner play 10 minuti guadagnate punti esperienza e cambierà il tasto qui cliccando le più volte inizierete a guadagnare punti esperienza più o meno si fa ogni run a livello e livello e mezzo barra 2 in base a che livello si chi ha dato non abbiamo livellato e abbiamo guadagnato già un bel po di punti esperienza altri 18k teoricamente dovremmo avere finito, dovete cliccarlo 5-6 volte più o meno poi andate qua dove c'è il cavo sul tasto rosso, lo cliccate e dobbiamo andare dietro alla rastraliera delle armi mitiche quindi fate saltare sopra, andare qua dietro e qui nell'angolino c'è questa leva stesso identico discorso, cliccatela 4-5 volte finché poi non vi pagherà più punti esperienza 20k, altri 20 intanto abbiamo livellato ancora, 21k, vedete più o meno in 10 minuti di game si fanno un livello e mezzo circa più o meno forse quasi, forse anche due, comunque non male come mappa quindi fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che non c'è rischio di bano, ci sono quelle mappe che fanno fare uno o due livelli state tranquilli, potete farla tutte le volte che volete, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando attivando la campanellina così non perderete nessun video che esce al giorno, come quelli contest matutini e vi auguro buon video a tutti, scollicciatevi su per supportare il canale ciao